Non lo so, sembra che siamo un'altra squadra. Non c'è niente da dire, voglio solo chiedere scusa per le ultime due prestazioni. Dobbiamo rialzarsi e dobbiamo ripartire dopo la sosta con la testa bassa e secondo me un po' di più di cattiveria. Una cosa strana. Abbiamo iniziato bene, potevamo andare in vantaggio però non lo so che cosa è successo. Dopo il primo gol di Chievo è cambiato tutto, siamo un po' callati, un po' di paura di non perdere questa partita o un'altra partita, di fare un'altra brutta figura. Cosa vi ha detto il mister alla fine della partita? Dobbiamo abbassare la testa e lavorare molto di più.